Ciao a tutti ragazzi, io sono Fille e oggi sono tornati qua in un nuovo video di Clash of Clans dopo un anno. In questo video andremo a completare, io l'ho già completata, l'ultima sfida dei dieci anni di Clash of Clans. A primo impatto sono una base troll, nei vari punti ci sono un sacco di tesle di livello maxetto. Quindi adesso vi lascio alla clip di dove la completo. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.